Edizione serale del TG Noi Versilia, un saluto ai nostri ascoltatori e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione. L'apertura del nostro telegiornale dedicata alla sanità. Stamattina conferenza stampa congiunta con la direttore generale dell'azienda sanitaria della nostra zona, Toscana Nord-Ovest, alla presenza del presidente della conferenza dei sindaci, Giorgio Del Ghingaro. Per parlare del futuro dell'ospedale Versilia, nessun ridimensionamento, questa è la parola d'ordine e soprattutto per quanto riguarda i ricoveri dal pronto soccorso, verranno aumentati a cominciare dal mese di settembre. Il servizio. Dal 1 gennaio 2016, data di costituzione della ASL Toscana Nord-Ovest, all'ospedale Versilia non vi è stato alcuna diminuzione di posti letto, di personale e di attività, al contrario di alcuni settori vi è stato un aumento. Ad affermarlo stamattina è stata Maria Teresa De Lauretis, direttore generale dell'azienda sanitaria Nord-Ovest, nel corso di una conferenza stampa tenuta assieme al presidente della conferenza dei sindaci delle Versilia, Giorgio Del Ghingaro. La riforma del sistema sanitario toscana, ha continuato De Lauretis, ha rappresentato per questo territorio un'opportunità di valorizzazione delle diverse professionalità e di miglioramento dei servizi, anche grazie all'attività di rete e alla possibilità di usufruire di tecnologie avanzate e di garantire una maggiore qualità dovuta all'aumento complessivo della casistica. Entro settembre, ha detto ancora la responsabile, mi assumo l'impegno di rimodulare i posti letto a disposizione dell'area medica per consentire un maggiore afflusso dal pronto soccorso locale, che presenta un numero di accessi in costante aumento e quindi aumentare la capacità di ricovero. Esiste, come su tutto il resto del territorio, la criticità delle liste di attesa, ha ammesso, ma stiamo lavorando alla loro riduzione grazie anche agli impegni presi in questi giorni della regione. La sanità in Bersida funziona, il nostro ospedale è tra i migliori di area vasta, numeri importanti, grazie naturalmente alla professionalità dei medici e del personale ospedaliero. A noi interessa però anche naturalmente il rapporto ospedale-territorio e abbiamo chiesto alla ASL di rafforzare tutta la sanità territoriale per permettere di avere complessivamente dei servizi di eccellenza in tutto il territorio. Mi sembra che però le preoccupazioni che sono solte in questi ultimi tempi rispetto ai posti letto, rispetto al numero dei personali, con queste risposte siano venute praticamente meno e quindi ci sia la possibilità di fare veramente un ottimo lavoro. L'ospedale Versilia è un ospedale che non solo non verrà smantellato, ma che dà servizi di grande qualità e verrà implementato con nuovi servizi di eccellenza. Largo risorgimento, Mover subito al lavoro per il completamento della segnaletica e la fine dei lavori e per il mercato di Piazza Cavour, lo storico mercato centrale di Viereggio, è pronto un progetto per il suo rilancio. Lo afferma il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Attesa finita per il completamento dei lavori nella zona di largo risorgimento a Viereggio, dove dall'8 dicembre scorso è aperto il cantiere per la realizzazione delle nuove rotonde e la nuova segnaletica stradale. Lo conferma il sindaco Del Ghingaro, annunciando che il completamento dell'opera verrà realizzata da Mover. L'azienda che si era impegnata a terminare i lavori, cioè l'azienda che ha costruito tutta la zona industriale e ristrutturato gli edifici che c'erano, si era impegnata appunto a ristrutturare anche tutta la rotonda, a farla, a mettere la cartellonistica. Per una parte di questa, per motivi loro interni non ritardano e quindi noi abbiamo deciso a questo punto di revocare il loro rincarico, di affidarlo alla Mover e quindi lo faremo in casa e nei prossimi giorni riapriremo il cantiere e penso che nell'arco di una settimana sarà tutto terminato. Diminiscono i banchi, cala la qualità e a perderci sono tutti, anche i commercianti del centro Viereggio. Da troppo tempo si parla del possibile rilancio dell'estorico mercato cittadino in grave agonia. È partita una discussione che ha animato anche i social e che ha visto l'intervento del primo cittadino. Il progetto è pronto, devo dire la verità, è pronto da un mese, però abbiamo valutato con attenzione se presentarlo ora o presentarlo più avanti e cioè dopo l'adozione del regolamento urbanistico e ci è sembrata la maniera migliore. Perché? Perché a seguito dell'adozione del regolamento urbanistico sarà possibile modulare gli spazi in maniera da ampliarlo. Ecco, quindi noi vorremmo far questo. Se lo facciamo prima del regolamento questo non è possibile. Per cui aspettiamo l'adozione che dovrebbe essere alla fine del mese di luglio e poi vareremo anche il bando per il piazzone che, ripeto, è già pronto. In merito alle dichiarazioni rilasciate in queste ultime ore dal sindaco di Vireggio Giorgio Del Ghingaro, il Partito Democratico della città interviene dicendo che le dichiarazioni del sindaco hanno notevole rilievo politico. In pratica trattasi di un appello a cui, nel rispetto della sua carica, occorre dare risposta. Alla luce di questo, però, si legge nel comunicato firmato dalla segreteria del Partito Democratico Vireggino, è bene fin da subito evidenziare alcuni aspetti. Primo fra tutti il fatto che il PD resta comunque all'opposizione e per qualunque azione politica del Partito Democratico è e sarà sempre posta in essere nell'esclusivo e totale interesse della città di Vireggio e dei suoi cittadini. Andiamo invece a Marina di Pietrasanta. Il nuovo sindaco ha detto sì alla chiusura dei passi a mare la notte per difendere gli stabilimenti balneari di Marina di Pietrasanta dagli spiacevoli episodi e eventi vandalici che caratterizzano il weekend durante il periodo estivo. La neoamministrazione Giovanetti raccoglie così l'appello dell'Associazione Balneari di Marina di Pietrasanta, licenziando, come promesso in campagna elettorale, la chiusura fino al 30 settembre dalle 20 e 30 alle 8 del mattino nei giorni di venerdì, sabato e domenica dei tre particolari sensibili passi a mare in prossimità delle discoteche della costa con l'obiettivo di fermare le scorribande. Occupiamoci ora invece del Summer Festival perché a pochi giorni dal megaconcerto di Roger Waters, leader storico dei Pink Floyd e con il Summer Festival 2018 ormai in pieno svolgimento, patrona Mimmo d'Alessandro stamani è stato convocato in procura a Lucca per essere ascoltato a proposito della storica esibizione dei Rolling Stones alla luce di molte persone che si sono lamentate per la scarsa visibilità del concerto. Mimmo d'Alessandro naturalmente ha risposto picche. Sentiamo il servizio. A pochi giorni dal megaconcerto di Roger Waters e con il Summer Festival 2018 in pieno svolgimento, il patron Mimmo d'Alessandro è stato convocato in procura per essere ascoltato sulla storica esibizione dei Rolling Stones che l'anno scorso richiamò all'ex Balilla 56.000 persone. In via Galitassi sono arrivati circa 800 esposti di persone che si sono lamentate per la scarsa visibilità del palco e quindi la procura ha aperto un'inchiesta ipotizzando i reati di truffa e frode commerciale. D'Alessandro ha respinto ogni accusa, sostenendo di aver organizzato il concerto a regola d'arte come ha sempre fatto durante la propria carriera ed ha ribadito le considerazioni già fatte all'indomani delle accuse rivolte lì dall'organizzazione dei consumatori Kodakons. Sul biglietto c'è scritto che in alcuni posti, parte del venue, ci poteva essere una visibilità ridotta. Quindi chi compra i biglietti, che cosa sa di cose meraviglie, uno che fa cose cosa pensa di essere alla scala? Si vede un palco a 3,20 metri, schermi di 29 metri di altezza. Come fai a non vedere? Impossibile, impossibile, siccome io sono una persona coscienziosa e quando faccio le cose le faccio bene e mi reputo che la mia struttura è un'eccellenza in questo paese e allora quando noi prima di montare il tutto abbiamo verificato che da ogni qualsiasi parte tu eri, vedevi. Era impossibile, a meno che non ti metti dietro a un pilone o dietro a una struttura, a un gazebo, è chiaro che non vedi. Tu vai, vedi e ti sposti. Poi, ma chi era a vedere il concerto di Licabue a Campovoli, 180.000 persone, che vedevo? Vasco Rosso con 250.000 persone, a Wustock con un milione di persone. Ma di che stiamo parlando? Io ho la coscienza, ho fatto benissimo il mio lavoro e secondo me chi ha visto il concerto di Ston San Luca è stato un privilegiato, perché quella è una bomboniera, quel venue lì, non c'è posto al mondo dove si fanno i concerti rock che si vede meglio di quello. Quindi a posto, tranquillamente a posto. La cronaca, migliaia di pezzi contraffatti sequestrati dalla Polizia Municipale di Forte dei Marmi. Sono per esattezza 1.355 gli oggetti requisiti, 6 agenti in azione, 6 ore impiegate tra il sequestro e la suddivisione e catalogazione della merce contraffatta. Questi numeri della rilevante operazione di lotta alla contraffazione effettuata dalla Polizia Municipale di Forte dei Marmi, che non si era imitata al solo contrasto dell'abusivismo commerciale. Gli agenti hanno infatti perquisito un chiosco fisso in via Carducci a Forte dei Marmi, in affitto d'azienda ad una società intestata a due cittadini del Bangladesh, in regola con le norme di soggiorno. Tramite il controllo i poliziotti hanno constatato la presenza di materiale evidentemente contraffatto, in particolare cover per telefoni cellulari e accessori di abbigliamenti griffati. La storica autoscuola Lenci di Viareggio diventa partner di ACI della provincia di Lucca e proporrà un metodo di scuola guida innovativo e moderno, con prove al simulatore e driving test in piazza. Vediamo di che si tratta. Prosegue senza sosta l'opera dell'ACI Lucca verso la sensibilizzazione sui temi della guida sicura, soprattutto nei confronti dei più giovani. Giovedì infatti si è tenuta l'inaugurazione della rinnovata autoscuola Lenci di Viareggio, che è entrata ufficialmente a far parte del network Ready2Go, la rete creata dal sodalizio automobilistico che insegna a guidare in modo innovativo e moderno. La storica autoscuola viareggina, una delle più antiche della città, e la seconda in provincia di Lucca, dopo quella di Fornoli, a proporre il metodo ACI certificato, già presente in altre 250 strutture sul territorio nazionale. Siamo molto felici che anche l'autoscuola Lenci, una scuola che da tanti anni è attiva a Viareggio, abbia deciso di aderire, hanno spiegato Luca Gelli e Luca San Giorgio, rispettivamente presidente e direttore dell'ACI Lucca. È un modo per coinvolgere soprattutto i ragazzi, che saranno i guidatori di domani, attraverso una formazione che va al di là del semplice programma ministeriale. Sempre qui a Viareggio, hanno aggiunto, verranno fatti dei driving test in piazza aperti al pubblico, un modo innovativo per promuovere una nuova e più radicata cultura della sicurezza e dell'educazione stradale, che è fatta di cose concrete fatte da ACI. Nelle strutture convenzionate Ready, Doe, Go, oltre al programma ministeriale di Prassi, si affiancano ulteriori moduli specifici legati alla sicurezza stradale, che formeranno i patentandi su come comportarsi in situazioni critiche. Si insegnerà a cambiare le gomme, a montare le catene, a padroneggiare con sicurezza una strada ghiacciata o innevata. L'autoscuola Lenci potrà quindi mettere a disposizione dei propri iscritti un simulatore di guida all'avanguardia, che imita le più frequenti situazioni che possono verificarsi sulla strada. Geppi Cucciari, che qualche anno fa è stata premiata al Festival della Satira Politica, Festival internazionale della Satira Politica di Forte Remarmi e che sarà presente anche all'edizione che calerà il sipario proprio domani sera, ha parlato ai microfoni del nostro collega e collaboratore Paolo Barberi, ricordando appunto il premio che vinse qualche anno fa e che la lanciò proprio nel mondo della Satira Politica. Con Geppi Cucciari, qui alla Villa Vertelli, è appena terminato il suo spettacolo, ma prima vogliamo ricordarla in un avvenimento molto importante, sempre qui a Forte Remarmi, il premio della Satira Politica. Non ricordo di Bregiso se sono cinque o sei anni, fege anche un'intervista e è stata una grande soddisfazione quella del premio. Sì, anche perché quello è stato il primo premio legato comunque alla Satira, è stato il primo anno che mi sono occupata anche di quel genere di comicità, prima non mi occupavo di Satira Politica, quando sono andata alla Sette con GD e con gli speciali elettorali con Mentana, con le maratone di Mentana, ho cominciato a occuparmi anche di Satira e voi vi siete subito accorti e mi avete premiato e di questo vi sono grata. C'è fra gli artisti in genere una considerazione ancora per questo premio di Forte Remarmi, della Satira Politica? Sì, come no, infatti speravo di riprenderlo, anzi non escludo che ricapiti, o lei lo esclude? Sì, no, qui c'è il Presidente. Adesso vedremo di impegnarci per riaccapararcelo in qualche modo. Sì, mi sembra anche giusto. Alla carriera, grazie, tiè, alla carriera. Oh Presidente, scusa, invece questo monologo è il primo che fai nella tua carriera? No, no, non è il primo, ne ho fatto altri, questo, no, non è il primo. Non è il primo, è il secondo, è il terzo? È il terzo, è il terzo, gli altri li avevo scritti con Lucio Wilson, questo è un testo di Mattia Torre, fa parte di un'evoluzione naturale che credo sia anche legata all'età, sono molto felice di portare in scena uno spettacolo scritto da Mattia, per me, io e lui siamo molto, prima che due persone che hanno lavorato insieme, due amici, e lui questo spettacolo l'ha scritto esattamente per una donna di cui conosceva i percorsi mentali. Sono femminista perché la collettiva Vogliamo la Luna tappezza la città. È semplice, si è risvegliato tappezzato di volantini a firma della collettiva Vogliamo la Luna, il centro della città di Viareggio, oggi. I volantini riportanti, frasi sui luoghi comuni sulle donne, sono stati attaccati nella zona di Via Battisti e in altre zone del centro. La collettiva aveva già fatto parlare di sé con una iniziativa, le streghe sono tornate, sagome femminili rosse poste in vari luoghi della città di Viareggio. E questi sono i volantini che invece abbiamo visto stamani, qui nella centralissima Via Battisti. Presentato ieri pomeriggio, giovedì pomeriggio, a Villa Bertelli, dal vice direttore del Tirreno, il nuovo libro di Corrado Benzio che racconta la storia dei personaggi via Regini. Vediamo. La Versilia raccontata attraverso i suoi personaggi. Il vice direttore del Tirreno, Fabrizio Brancoli, ha presentato giovedì pomeriggio a Villa Bertelli il libro del collega Corrado Benzio, dizionario dei versilesi, uno spaccato su chi ha fatto conoscere la Versilia al di fuori dei suoi naturali confini e su chi ogni giorno da questa terra si confronta con il mondo. Ci sono nomi di fama planetaria, scrive Benzio nell'insolita veste di scrittore, ma anche i custodi della nostra sicurezza. Ci sono gli artisti, ma anche tanti professionisti che tutti i giorni permettono alle famiglie e alle imprese di affrontare con fiducia l'impegno quotidiano. Ma è un libro sui 500 personaggi della Versilia, ma in realtà, ve lo voglio dire, è un romanzo. È un romanzo della Versilia, di quanto i versilesi siano visionari, come ha scritto giustamente nella prefazione Gian Paolo Simi, e di quanto tanti di noi hanno saputo fare nella loro vita. Qui accanto a me, ad esempio, c'è Corrado Fontana, l'uomo dei dischi, l'uomo che mi ha raccontato come sono nati i dischi del Carnevale e come il disco più venduto a Via Reggio è stato in 60 anni La febbre del sabato sera, 1978. 1978. Ecco, io attraverso questi personaggi ho voluto raccontare la storia della Versilia. 500 personaggi, ma i nomi saranno 2000. Marco Rado ha ritenuto di inserirmi in questo dizionario che, bene, accetto con grande piacere, e ripercorreremo insieme un po' la storia di questi ultimi 50 anni. Anche quest'anno, e per il terzo anno consecutivo, è stata assegnata negli Stati Uniti la borsa di studio Dino Tofanelli, dedicata alla memoria del compianto cittadino torralaghesi Dino Tofanelli, padre del grande trombettista Andrea. Una doppia borsa della quale hanno usufruito quattro studenti trombettisti selezionati dalle università americane per particolari meriti musicali e scolastici. Inizierà il sabato 7 luglio l'undicesima edizione della rassegna di incontri «Ritrovare la bellezza». La manifestazione organizzata dal circolo culturale Borgo di Gendri di Pieve Aelici con la parrocchia di Montigiano e Gualdo, con il patrocinio del comune di Massarosa, prevede otto appuntamenti che si svolgeranno sul sagrado della chiesa di Pieve Aelici nei quali la bellezza verrà declinata sotto vari aspetti. In programma per sabato 7 agosto alle ore 21, 7 luglio, probabilmente un refuso nel comunicato che è stato inviato, alle ore 21, Cantare la bellezza, concerto inaugurale della rassegna con la classe di canto del maestro Marco Mustaro. Tutto il concerto è a ingresso gratuito. Nell'ambito dei progetti varati per il nuovo anno, il Rotary Club Viareggio Versilia sotto la presidenza di Carlo Bigongiari, appena eletto presidente, il Rotaract locale è organizzato per il prossimo martedì 10 luglio alle 21 presso lo stabilimento balneare Magico Mare di Tonfano, un torneo di burraco, il Curi Cavato, concorrerà al progetto per l'acquisto di un ecografo per il pronto soccorso dell'ospedale Versilia di Viareggio. E ancora per gli spettacoli e gli eventi, torna l'attrice viareggina Cristina Grandi al teatro Estate nella pianeta di Ponente a Viareggio, domenica 8 luglio alle 21.15 e va in scena Battibecco d'Amore, il suo nuovo lavoro che ha come tema il sentimento più complicato del mondo. Sul palco, con lei, ci saranno il cabarettista Elio Fittoni e il gruppo musicale I Pirulini di Gomma, composto da Roberto Lazzarischi alla chitarra, Rolando Cima al basso e Simone Nieri alla chitarra. Ed ora una breve pausa e subito dopo la ricca pagina sportiva di oggi. Ben ritrovati alla pagina sportiva, apriamo con il calcio, soprattutto con le problematiche legate allo stadio dei pieni di Viareggio. Il presidente del Viareggio 2014, Baroni, spera nell'apertura dello stadio per festeggiare il centenario. La squadra confida, come tutti d'altronde, che il comune faccia presto i lavori per riaprire questa importante struttura. Il servizio. La società della Viareggio 2014, con il suo presidente Cristiano Baroni, torna sull'argomento dello stadio dei pieni. Abbiamo sentito, dice dal sindaco, proferire la parola centenario, che lo stadio sarà pronto per questa ricorrenza. E questo ci rincuora e significa che in realtà l'amministrazione comunale, al di là di tutte le polemiche, riconosce il ruolo decisivo che la nostra società ha avuto nella sopravvivenza del calcio a Viareggio negli ultimi anni, nell'aver tenuto sino ad oggi aperto a tutti lo stadio dei pini. Che oltre ad una storia da raccontare, a funzione sportiva e sociale importantissima, ha considerato il numero di ragazze e di associazioni che ospita tutti i giorni. Che a costi di gestione ingentissimi, che da soli, ribadisce il Viareggio 2014, ci siamo sobbarcati nell'interesse non solo nostro, ma di tutta la città. Ospichiamo per questo che gli interventi preannunciati dal sindaco Giorgio De Dlingaro iniziano e siano completati davvero prima possibile. Di sicuro ci faremo trovare pronti quando si tratterà di partecipare al bando per la nuova gestione, insieme a tutte le altre società interessate. Soprasedendo su chi aveva l'onere di provvedere a sistemare l'impianto di illuminazione, il sindaco puntualizza il Viareggio ricorderà sin troppo bene i termini degli accordi di cui parlarono anche i giornali e anche le tv a suo tempo. Ci aspettiamo di essere trattati nell'anno della nostra gloriosa ricorrenza, esattamente come altre importanti società sportive che hanno beneficiato di contributi in occasione dei loro rispettivi compleanni. Siamo sicuri che i tifosi, gli sportivi a noi vicini continueranno a sostenerci, avendo compreso la situazione ed apprezzato gli sforzi. Infine, state tranquilli, questo è un appello rivolto ai supporters bianconeri, lo ripetiamo in silenzio e grazie anche a nuovi amici, stiamo costruendo un bel viareggio. Parliamo ora di pallavolo perché per due giorni la località Lido di Camaiore, davanti alla spiaggia di Piazza Carducci, darà spettacolo e divertimento gratuito a tutti coloro che amano il grande sport. Infatti ci sarà un grave torneo, un grande, grandissimo torneo di pallavolo femminile con la partecipazione delle squadre di serie A e A2. Vediamo il servizio. La grande pallavolo femminile d'estate si vive con il Samsung Lega Volley Summer Tour che anche nel 2018 torna sulle più belle spiagge italiane per coinvolgere migliaia di tifosi appassionati. A partire dal 7 e 8 luglio e per quattro weekend consecutive sei squadre di serie A si daranno battaglia per conquistare i trofei che la manifestazione, organizzata da Lega Pallavolo Serie A femminile e Master Group Sport, mette in palio. L'esordio avverrà sulla spiaggia del Lido di Camaiore per la prima volta a teatro di una tappa di Sand Volley 4x4 con la ventesima Coppa Italia. Il Samsung Lega Volley Summer Tour non sarà solo spettacolo tecnico ma anche puro divertimento in riva al mare. Sì, siamo molto contenti di essere approdati a Lido di Camaiore con il Lega Volley Summer Tour. È la prima tappa di un tour itinerante che andrà per le principali spiagge italiane, un tour che Master Group Sport organizza con la Lega Pallavolo Serie A femminile. E le protagoniste di questo importante evento sono le giocatrici che militano nel massimo campionato. Un torneo di Sand Volley ovvero 4x4 e si giocherà a Lido di Camaiore sabato nel corso di tutta la giornata e domenica ci sarà la finale della Coppa Italia, per cui un evento prestigiosissimo che vedrà protagonista la spiaggia di Lido di Camaiore per la prima volta e contiamo di ritornarci anche nei prossimi anni. I ragazzi dell'associazione sportiva Torrelaghese fanno incetta di titoli e medaglie ai campionati nazionali under e outdoor di beach tennis in grande spolvero Elena Francesconi con tre scudetti in tre diverse categorie. Tre scudetti dunque e un ricco bottino di medaglie per i giovani bad players di Torre del Lago Puccini ai campionati italiani under e outdoor di beach tennis che si sono svolti dal 29 giugno al 1 luglio sulle spiagge di Terracina. E qui vediamo una foto che ritrae i campioncini di Torre del Lago che come abbiamo visto hanno fatto davvero incetta di medaglie. E sarà intitolato a Matteo Ricci il nuovo centro federale FISR, il vicepresidente della federazione italiana di sport rotellistici Michele Grandolfo, sarà lunedì pomeriggio a Lido di Camaiore per la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo centro federale dedicato in particolare all'hockey su pista che sarà intitolato a Matteo Ricci, giocatore del centro giovani calciatore di vereggio scomparso nove anni fa alla età di appena 22 anni. L'appuntamento è fissato per le 16 di lunedì 9 luglio presso il Pardini Sporting Center in via Fratelli Rosselli all'interno del quale si trovano le due piste che saranno il cuore pulsante di moltissime iniziative federali. Non ci sono notizie di particolare interesse per aggiornare il nostro telegiornale, passiamo direttamente allora alla rubrica degli auguri, tantissimi auguri a Carlo Bresciani, ex allenatore del viareggio 2014 ed ora in forza al Real Forte Querceta per il suo compleanno da parte di suoi familiari, amici e i tanti tantissimi sportivi che lo hanno seguito durante lo scorso campionato. Tanti auguri anche a Gianluca Muglia che festeggia oggi il suo compleanno, è un editore viaregino molto conosciuto, gli auguri di buon compleanno arrivano da parte di parenti e dei tantissimi amici. E' tutto per questa edizione del TG Noi Versili, l'appuntamento come sempre è per le prossime edizioni, a tutti voi un buon proseguimento di serata, arrivederci.